Musica Hello guys, Render here Benvenuti in questo video qui in FTB Ovviamente sul mio canale Perché sennò... Cioè, dove lo trovate un'altra FTB? Al cento arrotti episodi In cui stiamo farmando come dei porci In un porcile Perché dove cazzo io ti trovo ai porci Se non in un porcile Ok Detto questo Salve, dobbiamo fare un po' di lana Accumuliamo, accumuliamo, accumuliamo Che è sempre bello C'era un Enderman prima che mi fissava come un depravato Cioè, ehi, Renna Vieni qui Voglio prendere il tuo Bip E farci questo Bip E Bip Ho fatto fare un po' di U-U-Metters Ho lasciato ieri un po' il gioco aperto Perché ci serviva Allora, lo straw poll Cioè il sondaggio Per chi non conoscesse il sito Straw poll È un sito dove si fanno sondaggi Ehm... Ma qui ovviamente non va Perché Qui Corri Perché qui ovviamente è staccato Giusto 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 Allora, ci serve un attimino Un cavo Prendi tutto E poi possiamo continuare Un secondo O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Oh cavolo Vabbè Due secondi e poi facciamo una bella Stresciata lì Ah perché giustamente dà energia A questo che si sta riempendo Mi avrei dimenticato che c'era un terzo Ah vabbè bro Tutto a posto Ora che abbiamo svelato il mistero Arcano arcaico dell'arcadia Dell'arcano Possiamo anche ritornare Ecco semmai mettiamo un po' di torcia in più perché se qua C'è un creeper ed esplode Succede un cazzo di macello Ok allora riempitevi voi Riempitevi che a noi fa piacere Fa piacerissimo Fa un immenso il mondo piacere Oh si oh bitches Ok allora dicevo Nello straw poll Che ho messo ieri nello scorso video In cui vi chiedevo appunto Se volevate che Mi prendessi un ultimate hybrid solar panel Come regalo di Natale Oppure no I voti per il momento io sto registrando A due ore dall'uscita dello scorso video Sono a 232 a 20 Quindi io direi che Cioè 232 si 20 no Potete andarlo a controllare Io ovviamente a questo punto Rispetto assolutamente La vostra volontà Bro adesso Mi fa solo un gran piacere Perché facciamo molta più U-meter E quindi direi proprio Che ci piace un sacco Allora abbiamo detto Dobbiamo prendere Un ultimate hybrid solar panel Da vostra grazia E ovviamente lo facciamo insieme Ultimate Ok Eccolo qui Lo piazziamo Proprio Oddio Lo piazziamo qui Perfetto Adesso dobbiamo andare più ai cavi Però Ah no il cavo ce l'ho Fermi tutti Il cavo ce l'ho Oh yeah Bitches Dobbiamo andare a prendere del basalto Però ce l'abbiamo del basalto Basalto Fermi tutti Fatemi vedere un attimo Adesso che stanno andando in due Vero? Aha 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 Oh mio dio Ok ok C'è la polvere di diamanti dentro Però Gesù Sì perché brothers Ci ha smacciato un botto di diamanti E giustamente Mi scrivono su facebook Datemi due secondi Che lo chiudo In diretta mondiale E facciamo Così Perfetto Ottimo 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 Allora Guardate quanto cazzo va Ok Dobbiamo vedere con lo scrap Come va Fermi Vediamo come va con lo scrap Beh cazzarola Va bomba Vabbè Giustamente Abbiamo ancora un po' di diamond dust Gliela lasciamo lì Scusatemi Vorrei dire Vorrei dire Mi serve però del Del basalto Andiamo a prendere il basalto Scusate Salve Buongiorno Ehi Ehi Hello 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 Perfetto Andiamo 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 A mettere il basalto Qui Tanto sta succedendo Un macello Su facebook Perché ho tolto l'audio Per non l'ho chiuso del tutto Brothers Aspettate un secondino Chiedo scusa Ma è una cosa importante Ma è una cosa importante E se rispondo E Perfetto Fatto Ok Andiamo 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 Allora Dicevamo Abbiamo Adesso abbiamo una produzione Di Umetter Schifosa Proprio della serie Quanta Umetter Vediamo Sette Vediamo Contiamo Uno Quando scatta otto Vediamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Ok Più o meno È un Umetter Ogni dieci secondi Circa Fatemi controllare la percentuale Così diamo proprio la sicurezza Over nine thousand Però Fatemi vedere Serebbe Allora Vediamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ok Sì È uno Ogni undici secondi Praticamente Il che significa Che in un In un minuto Ne facciamo Circa Sei Tipo ne facciamo cinque E beh Beh brother Significa che Che facciamo 51 Devo mettere L'episodio È fantastico È Fantastico Guys Io amo Il vostro regalo Ve lo posso dire Ve lo sto dicendo Ve l'ho detto Io amo Il vostro regalo Di Natale Penso sia stato tipo Il regalo di Natale Più bello Che abbiamo avuto Questo Natale Grazie a tutti Adesso Effettivamente Non avremo più problemi Con quella roba lì Ci saranno delle sell Aha E Chi ce le toglie Le sell E poi La rubidast Che stiamo facendo Aha Andiamo A mettere le sell Qui La rubidast Qui Qua ha finito No Minchia quanto sento C'è un modo C'è qualcosa di più veloce Del rotary maserator Macerator Aha Abbiamo l'automatic maserator Ma è più veloce Più veloce Del rotary Fatemelo sapere nei commenti Lo sapete che Noi dobbiamo velocizzare tutto Dobbiamo velocizzare tutto Purtroppo Queste cose qua Sono già belli veloci di loro Non ci può Ah si Ci può mettere gli overclock Ma se ci mettiamo gli overclocker Che cazzo succede Domanda Overclocking Andiamo a vedere Cosa succede Ne prendiamo uno Dai Da qui Scusa Scusa bro Andiamo un attimo A controllare una cosina Torniamo subito Subito Torniamo Aha Bro adesso dobbiamo far fare Questa roba qui Quindi ci vuole un po' di tempo Aha Oh sale Sale Oh Jesus Ma 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 Anche con questa roba No qua no Però questo sale Aha Quanto sali solo con uno? Domanda Da mille milioni di euro Perché poi dovevo tornare A rimettere all'altra parte Ovviamente Quanto sale solo con uno? È salito già di 300 RPM? Chissà Vediamo Lasciamolo fare Chissà se esplode Tipo boom Ragà io ho davvero paura Oh Sale da 7500 a 500 RPM Per overclocker? Oh porca puttana Brothers Mi scrivete nei commenti Se può esplodere Per gli overclocker No perché se no io ce ne metto 8 Cioè Sappiatelo No 7 Perché 8 poi crea problemi Cioè dobbiamo mettere Quegli altri cosi lì Macello Macello Ho detto il macello Del macello No quindi Macello Ma macello Quindi non converrebbe Allora vediamo un po' Come siamo messi qui Aha Aha E Allora Fermi tutti Andiamo 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 A mettere Il compressed air Circle Qua dentro Questi vanno Qua dentro Sì Direi di fare ancora Un paio di rubini Tipo Così Perfetto Almeno Aha Almeno vediamo Di fare No 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 dove sei uh 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 Facciamone 36 Grazie Perché Vanno a 9 a 9 giusto Quindi dovrebbe ecco Perché Perché faccio sempre queste stronze Intanto andiamo a nanna 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 prima che arrivano gli stronzi Cammina dai Oh nanna Quel give è stato fantastico Davvero vi amo Adesso abbiamo due ultimate hybrid solar panel La cosa si fa molto interessante Devo dire la verità si fa moltissimo Interessantissimissimissimo Mi piace un sacco Mi piace proprio un sacco Fatevi vedere come stiamo messi A elettricità da quest'altro lato Siamo già a 4 milioni 4 e Beh cavolo siamo messi bene Siamo messi molto bene Andiamo a un attimo di flight control Scendi fammi camminare Sali 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 Questi vanno bene vero si Ok Quella roba potremmo Ah perché se faccio così Ah giustamente se faccio così poi sale Ah beh in effetti Ehm Dicevo questa roba potrebbe andare anche da queste parti qua Questo Uuuuhuuu Due milioni Due cazzo di milioni Oh cazzo Ok fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Dobbiamo fare un paio di cosine Brothers qua stiamo farmando come dei dannati per avere le cose che ci servono Allora Prima di tutto rubi dust Ok questa è nostra La mettiamo qui E la andiamo a mettere qua dentro Bella Perfetto Ci facciamo la diamond dust Andiamo a rimettere di nuovo là Perché la fabbrica funziona bene Va Se noi riusciamo a fare abbastanza chrome Ragà A noi siamo arrivati a 20 advanced machine Abbiamo fatto il calcolo Che ce ne servono 36 Quindi altri 16 Giustamente E a quel punto potremmo cuocere il Ehm Il Tungsteno Tung Eccolo qui Il tungsteno che abbiamo già Perché se vi ricordate Si va a prendere nel land Noi siamo andati nel centesimo episodio A uccidere l'ender dragon Per chi non avesse visto il centesimo episodio Fate schifo Andatelo a vedere E No non è vero Vi voglio bene però Cioè Andatelo a vedere Ok Cioè Comunque E Quindi Là adesso abbiamo Tutta quella parte In cui ci sono Le risorse Tipo Emerald No che c'era Emerald Si e no Che cazzo era quella roba verde Ma ricordo Si mi sembra Smeraldi Smeraldi e Ehm Smeraldi e Ehm E come cazzo si chiama Il tungsteno Tungsteno Ok No Fermi Mi sono dimenticato Diamonds Ok Uno stack di diamond dust Lo andiamo a rimettere Come ho già fatto prima Per fare un po' di Uh Metterlo in più Ok Ok Qua abbiamo Una quantità smisurata Di Ehm Di scrap Però fortunatamente Siamo ancora messi In maniera molto Figa ed efficiente Ci piace Ci piace un stack Potremmo anche liberare Questo slot Che tanto non ci interessa Lo andiamo a mettere a casa Così Liberiamo spazio Perché dovete sapere che Come vi avete scritto voi Intelligentemente nei commenti Quando c'è uno slot pieno Nella E Nella Applied Quando uno slot E' pieno Occupa più spazio Cioè E se ci sono Se c'è uno slot pieno Di cobblestone Per dire E ci sono 40 cobblestone Dentro Occupano meno spazio Di un altro slot pieno Con un solo oggetto Perché Ehm Il computer richiede Una data memoria Per Proprio Imparare Ecco tra virgolette Quell'oggetto In più Quindi meno oggetti sono Più Abbiamo memoria E la cosa ci piace un sacco Questo andiamo a mettere a casa Raga Possiamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Siamo davvero Vicini Al completamento Di questa situation Brothers Io lascio fare un po' di U-meter Ma in realtà è che Nel prossimo episodio Facciamo ancora tanti rubini E Tanto adesso Con la velocità Che abbiamo Possiamo Permettercelo abbondantemente Di fare Tanta U-meter Qua si è sminchiata l'acqua Grazie Perché se non si sminchiata l'acqua Davvero Mi avete detto di portare questa cesta Nel piano superiore di casa Nuova Avete ragione Ce le portiamo Qui abbiamo rimesso tutto a posto Assolutamente si Qui come siamo messi Ok Questo va che è divino Chissà Brothers Adesso Secondo voi Se io ne mettessi un terzo Ne facessi un terzo Che cazzo succede Cioè tipo Mi sa che il Mass Fabricator Boom Boom Cioè sarebbe Tipo troppo veloce Ok Brothers Ci vediamo al prossimo video Ci vediamo Mi piace un commentino E Troveremo il modo Anche di fare altri Windmill Mi devo Portare tante 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 risorse Da queste parti Per fargli fare I crafting Ci vediamo al prossimo video Ci vediamo Mi piace un commentino Enjoy Bye 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 Ciao